Allora, sei antica, stantiglia, obsoleta. Da quando sei morta, le cose sono cambiate. La donna è evoluta, ci siamo emancipate. Pensa che dopo un intero anno che siamo rimaste incadenate alla cucina, i nostri mariti ci permettono addirittura di andare a vedere uno spogliarello lotto marco. E emancipate! E poi gli uomini, gli uomini, gli uomini che li prendiamo. Uno sguardo, uno spirleppo, due colpi d'anca, ed il gioco è fatto, creta nelle nostre mani. Come on! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.